La preghiera del Padre Nostro, che così profondamente ci caratterizza come cristiani anche oggi, è collocata in un contesto molto preciso, il discorso della montagna, quello che noi chiamiamo il discorso della montagna, cioè i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. È proprio al centro, al cuore di questa predicazione di Gesù. Ora, l'intento dell'Evangelista Matteo era quello di offrirci una sintesi del messaggio di Gesù presentandoci Gesù come il compimento della legge di Mosè, quindi come un secondo Mosè che sulla montagna riceveva e donava ai credenti questa nuova Torah, cioè questa nuova indicazione di vita che doveva segnare e caratterizzare l'esistenza dei suoi discepoli. Matteo gioca anche col numero 5, sapete che 5 sono i libri del Pentateuco, in realtà appunto i discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo sono effettivamente 5, questo è il primo dei grandi discorsi. Quindi Gesù è proprio rappresentato salendo su questa montagna, poi gli altri sul monte, gli altri si pongono intorno a lui ad ascoltarlo, vuole proprio ricalcare nell'immaginario il Mosè che sta in cima alla montagna e riceve la legge di Dio. Le beatitudini sono l'esordio di questo discorso, ma in realtà il discorso è molto dettagliato e affronta temi fondamentali come il perdono, come la radicalizzazione della legge di Dio, perché Gesù dice non sono venuto ad abolire la legge di Mosè, sono venuto per portarla a compimento, per portarla, cioè fino in fondo, per portarla all'estremo, perciò dice è stato detto non uccidere, ma io dico anche non insultate, è stato detto non commettete l'ulterio, ma anche non desiderate con uno sguardo. Quindi è una radicalizzazione profonda di questo discorso, perché lo interiorizza ancora di più, ma c'è anche il tema della preghiera e bisogna fare attenzione perché gli evangelisti hanno lavorato molto accuratamente nel darci dettagli e ogni dettaglio è l'insieme, cioè è parte di un insieme più grande nel quale dobbiamo leggere il dettaglio. La preghiera. Il tema della preghiera è uno dei temi fondamentali non tanto soltanto del cristianesimo, ma in generale anche del giudaismo. Io ho detto i primi cristiani non erano così consapevoli di essere diversi dagli ebrei. Queste che vi ho citato qui, che leggete qui, sono preghiere della tradizione ebraica. Donaci discernimento, Signore Dio nostro, per conoscere le tue vie e circoncili il nostro cuore perché ti tema. Perdonaci perché possiamo essere redenti e tienici lontani dalle sofferenze. Saziaci coi prodotti della tua terra e raccogli dispersi dai quattro angoli del mondo. Come vi suona? Questa è una berakot, cioè una sintesi di quest'altra preghiera, cioè di un estratto. Questo è un estratto delle 18 benedizioni, che invece sono una classica preghiera giudaica, che è un pochino più lunghetta, che si fa in sinagoga ogni tanto, e che alcuni rabbini, già ai tempi di Gesù, dicevano che bisognava recitarla tutta ogni volta, più volte al giorno, soltanto che era abbastanza lunga. Quindi questa qui, per esempio, sopra è già un tentativo di sintesi. E qui avete un estratto di queste 18 benedizioni. Per esempio la sesta suona così. Perdonaci, Padre nostro, poiché abbiamo peccato contro di te, cancella e togli le nostre inquietà davanti ai tuoi occhi, poiché numerose sono le tue misericordie. Ecco, vedete, c'è una richiesta di perdono, c'è un'invocazione di Dio col nome di Padre. Poi, pensate al Kaddish, un'altra preghiera della tradizione ebraica, di cui c'è sempre solo un estratto. Si è glorificato e santificato il suo grande nome, che la vostra preghiera si è accolta davanti al Padre nostro che è nei Cieli. Allora, perché vi ho citato queste preghiere? Ai tempi di Gesù noi non sappiamo se pregassero così, però noi sappiamo che probabilmente ai tempi di Gesù c'erano già delle forme simili a queste preghiere. Perché il giudaismo attuale, quello delle sinagoge di oggi, quello che predica i rabbini di oggi, non è il giudaismo dei tempi di Gesù. È un giudaismo che si è evoluto nel tempo, che si è trasformato, assunto delle forme. Il seder, la Pasqua ebraica di oggi, probabilmente è basata sulla Pasqua che si celebrava ai tempi di Gesù, ma probabilmente è anche diversa. C'è un'evoluzione. Come la nostra messa è cambiata nel tempo, così anche i riti ebrani. Sono cambiati nel tempo. Allora, questo però ci dice che c'è un terreno comune tra il Padre Nostro e la spiritualità ebraica. E uno dei temi, come vedete, è che Dio non viene chiamato per nome. Perché non viene chiamato per nome? Perché c'è un nome, il nome di Dio, che è il tetagramma che non si può pronunciare, ma nella tradizione ebraica non si pronuncia. E come si invoca Dio in tanti modi, tra cui anche quello di Padre. Ma quindi Padre Nostro non è che sia originale come invocazione di Dio, del tutto originale rispetto alla tradizione ebraica. Anche se per noi poi ha finito per significare qualcosa di molto preciso. Perché il Padre di Gesù, noi abbiamo dato all'invocazione Padre una valenza trinitaria, che ovviamente nell'invocazione ebraica non c'è. Però il modo di chiamare Dio non è così lontano. Allora, perché vi ho dato questo esempio? Perché appunto la versione di Matteo, che proprio si distingue da quella di Luca per la sua ricchezza, perché è un po' più articolata, perché tocca delle corde profonde anche della nostra esperienza di preghiera, è quella che appunto si intreccia strettamente con altre preghiere del giudaismo. Per alcuni aspetti, appunto, il modo in cui si invoca Dio, il fatto che ci siano delle richieste precise, queste richieste sono per esempio la santificazione del nome di Dio. Si è glorificato e santificato il suo grande nome. La santificazione cosa vuol dire? Vuol dire che si è riconosciuto il valore di Dio. Quindi Dio è santo di per sé, quindi santificare il suo nome vuol dire che tutti riconoscano il valore di questo nome, cioè della sua identità. Questo è il Dio vero, questo è il Dio che conta. Quindi santificare il nome di Dio vuol dire che si è riconosciuto come speciale, unico, assoluto, diverso da tutti gli altri dèi. L'invocazione del regno, vedete, è molto legata anche nella tradizione ebraica all'idea appunto della unificazione del popolo di Israele, raccogli dispersi dai quattro angoli del mondo, cioè la venuta di una realtà nella quale Dio trionfa e impone un ordine alle cose del mondo. Questo è il regno di Dio, che per noi cristiani oggi ha un valore spirituale, quasi escatologico, oltraterreno, anche se non dovrebbe esserlo del tutto, perché il regno di Dio è già qui in mezzo a noi, dice Gesù. Per gli ebrei ha una parezza decisamente più politica, per gli ebrei di oggi, cioè un regno proprio. I primissimi cristiani e tutti quelli che al tempo di Gesù erano, diremmo oggi, dei predicatori apocalittici, predicavano l'imminenza della venuta di questo regno. Per questo Giovanni Battista, per esempio, pensava esattamente a questo, non pensava a un regno spirituale, pensava a una nuova realtà materiale, oltre che spirituale, ma soprattutto materiale perché avrebbe cambiato effettivamente le cose, in cui Dio sarebbe venuto e attraverso appunto un suo rappresentante, il cosiddetto figlio dell'uomo, avrebbe giudicato il mondo, avrebbe appunto cambiato la situazione anche politica. Quindi capite che si tratta di un messaggio che comunque, vedete, è presente in qualche modo anche qui. Dato che è nel contesto del discorso della montagna, proprio al centro del discorso della montagna, capite? Gesù bisognerebbe vivere per praticare appunto la legge, per praticare anche la fede del Padre che lo ha mandato, no? E la preghiera è parte di questo percorso, è parte di questo cammino, è parte di questa proposta. Deve essere una preghiera breve, non molto lunga, però deve essere una preghiera che si ripete magari anche più volte durante la giornata. È sottinteso perché questo era quello che i rabbini insegnavano. Quando quindi Gesù dice pregate, non senza tante parole, ma dicendo queste parole, sta però anche in qualche modo facendo una sintesi del discorso della montagna. Cioè il Padre Nostro è strettamente legato al modo cristiano di vivere. Il cristiano si distingue perché perdona, perché pogge l'altra guancia, perché pratica la legge fino in fondo, perché la estremizza, perché trasforma il proprio cuore secondo le parole di Gesù, però si distingue anche perché appunto prega. Quindi la preghiera è in questo senso un comando, non è una cosa spontanea che si fa quando te la senti. La preghiera è effettivamente qualcosa che il cristiano deve fare. Allora, sapete che c'è l'espressione, non utilizzata anche dai teologi, che ciò in cui crediamo si può esprimere attingendo al deposito della fede. Noi immaginiamo il deposito della fede come una serie di dogmi contenuti. E anche questo, quando noi cerchiamo di esprimerli a parole, quando cerchiamo di esprimere a parole la fede, dobbiamo usare delle formule. Però deposito, deposito in latino vuol dire anche sedimento, cioè è la concentrazione distillata, ciò che si posa sul fondo, quando tu cerchi proprio di raccogliere il valore di quello che filtri. Come i cercatori d'oro arriva a un fiume, cercano il deposito, no? E allora lì si vede il valore di ciò che resta quando setacciano il fondo del fiume. E quindi il Padre Nostro esprime il modo di vedere e sentire il mondo e l'opera stessa di Dio in rapporto al mondo. È un po' una sintesi del Vangelo, è una sintesi del pensiero di Gesù, del modo in cui ci dobbiamo relazionare a Dio, ma anche tra di noi. È una presa di coscienza di questa relazione speciale che i credenti in Gesù hanno con Dio. Il Padre di Gesù è il nostro. Quindi il Padre Nostro, come preghiera, non è semplicemente una formula che Gesù ci ha dato. Il Padre Nostro è una rivelazione su chi siamo. Il Padre Nostro è una luce proprio sulla nostra esistenza. Nella lettera degli ebrei, l'autore della lettera degli ebrei, che come sapete non è Paolo, è un autore, poi in epoca più tardi hanno pensato a Paolo, però in realtà lo stile è proprio diverso. L'autore della lettera degli ebrei probabilmente è un prete di Alessandria d'Egitto, per capirci. Quindi era un cristiano profondamente intriso della Bibbia, profondamente intriso di Paolo, però è praticamente un'omelia che spiega ai cristiani, che vengono tutti dal giudaismo, che cosa significa il sacrificio di Gesù. Questa è la lettera degli ebrei. A un certo punto la lettera degli ebrei dice che la parola di Dio è una spada a doppio taglio, che penetra tra lo spirito, tra l'anima e lo spirito. Cioè fa anche questa distinzione dell'anima e lo spirito, che poi ancora stiamo discutendo di cosa significa questa distinzione tra l'anima e lo spirito. Però diciamo che il Padre Nostro, in questo senso, essendo anche parola di Gesù, è la punta di questa spada. Cioè perché arriva lì e definisce la nostra anima in relazione a Dio, questo è lo spirito. Cioè l'anima è parte della nostra natura, noi siamo corpo e anima, perché siamo corpi vivi. Lo spirito è la relazione della nostra vita rispetto a Dio. Ecco, questo diciamo, in sintesi, volete una distinzione tra l'anima e il spirito, è questa qui. E il Padre Nostro si colloca proprio lì, nella relazione con Dio. Come ogni pagina del Vangelo, va compreso il Padre Nostro alla luce del finale. Quando noi guardiamo un film, quando è che possiamo dire di averlo capito e giudicato? Quando l'abbiamo visto tutto, fino alla fine. Perché il finale, di solito, ci rivela il significato di tutto quello che è accaduto prima. Se è ben fatto, se poi è un po' una schifezza, ovviamente non funziona e siamo delusi. Ma se funziona bene, il finale dà significato, perché lega insieme tutto il percorso dei personaggi. La trama ha senso, perché tu la vedi tutta intera. E capisce che tutte le scene a cui ha assistito sono i panni stesi su questo filo che ha peso tra l'inizio e la fine. Quindi nel finale si rivela il significato. Allora, qual è il finale dei Vangeli? Il colpo di scena finale dei Vangeli? Questo Gesù che fallisce, che viene condannato a morte, che viene abbandonato da tutti, ma proprio abbandonato da tutti. Questo soprattutto nel Vangelo di Marco è evidente questa cosa. Perché altri Vangeli cercano di attenuare, ma nel Vangelo di Marco su questo è spietato. Perché si conclude con Gesù in uno stato di disperazione. Si dice appunto, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nel Vangelo di Marco è un grido fortissimo. Ed è un grido di un uomo davvero solo davanti all'abisso. Cerchiamo di attenuare questo grido dicendo, sì, ma Gesù sta citando il Salmo, perché citando l'inizio, in realtà cita anche la fine. In realtà se Marco voleva citare la fine, il Salmo avrebbe citato la fine. Invece cita proprio l'inizio di questo Salmo e si concentra su quello, perché vuole mostrare come Gesù ha bevuto fino in fondo questo calice. Tra l'altro il Chiara Lubic ci ha fatto tutta una spiritualità di Gesù abbandonato su questa frase, su questa esperienza umana di Gesù dell'abbandono. Così vicina all'esperienza dell'inferno, dello scendere negli inferi, sentirsi proprio lontani addirittura da Dio. Ma è così nel momento in cui Dio lo abbandona che il centurione dice, è questo uomo veramente era figlio di Dio, vedendo come era morto. Quindi quella discesa nell'abisso diventa il sommo della rivelazione. Perché vi dico questo? Perché il cuore dei Vangeli è proprio questa discesa nell'abisso e questa inaspettata risalita, questo ritorno alla vita. Il messaggio pasquale, quel messia che voi avete crocifisso, è vivo, è risorto. Perciò, ecco, anche il Padre nostro, per semplificare, va letto alla luce della morte e resurrezione di Dio. Grazie. 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 Grazie.